C'è un principale sospettato per l'omicidio Silent, potrebbe essere stato un coetaneo incensurato della stessa vittima a sparare e a uccidere il 57enne vigile del fuoco di Vittoria, si seguirebbe la pista del movente passionale. Era una brava persona, non ha mai fatto male a nessuno, gli volevamo bene, siamo sotto shock, è una città sconvolta quella di Vittoria per l'omicidio di Silent. Oggi le testimonianze a MTG. La Cassazione ha confermato il sequestro dell'impianto satellitare statunitense MUOS, adesso il Ministero della Difesa dovrà pagare anche le spese processuali. Per tutti i giovani che vogliono fare impresa arriva Vulcanic, primo incubatore in Sicilia capace di attivare programmi interessanti rivolti a trasformare le idee in imprese sostenibili. Eccoci tornati in diretta con l'informazione su video mediterraneo, buonasera ai nostri telespettatori, dunque l'avete ascoltato dai titoli C'è un enfermo per l'omicidio Silent a Vittoria, sarebbe un coetaneo di circa 59 anni incensurato ad aver sparato all'uomo. Ancora non emergono ulteriori argomenti e altre notizie, ma si seguirebbe la pista del movente passionale. Il racconto della storia da Viviana Sammito. E' un vittoriese di 59 anni, il principale sospettato del delitto di Giorgio Silent, il vigile del fuoco freddato ieri sera intorno alle 21.20 con un colpo di fucile caricato a pallettoni. L'uomo è stato fermato dalla polizia e dai carabinieri nel primo pomeriggio, interrogato per ora alla presenza dell'avvocato. L'interrogatorio è proseguito con il sostituto procuratore Monica Monego, titolare del fascicolo. La procura potrebbe nelle prossime ore aprire il fascicolo con l'accusa di omicidio premeditato. Il fermato avrebbe premuto il riletto per motivi passionali. L'arma del delitto sarebbe stata rinvenuta nell'abitazione del fermato il quale aveva un regolare porto d'arma. L'auto e il fucile utilizzati per commettere il reato avrebbero portato alla sua identificazione. Giorgio Silent è stato centrato in pieno volto morendo sul colpo dopo aver parcheggiato l'auto davanti alla sua abitazione in via Conte Ruggero nel quartiere Forcone. A Vittoria l'auto aveva ancora il motore acceso quando l'assassino si è accostato per sparare proprio davanti a casa dove c'era la moglie che lo attendeva insieme con la figlia in gravidanza, le due donne che lo hanno trovato morto. Era un uomo sereno e cordiale, così i cittadini a Vittoria ricordano Silent e oggi Viviana Sammito è andata sul posto per raccogliere delle testimonianze. Uno sparo, centrato in pieno volto il bersaglio, la fuga a bordo di un'auto, un omicidio eseguito con freddezza, simile ad un agguato di stampo mafioso che ha ucciso il vigile del fuoco Giorgio Silent conosceva bene le sue abitudini e ha atteso la vittima vicino casa, ha aspettato che parcheggiasse per sparare. Queste sono le immagini delle forze dell'ordine girate subito dopo il delitto. Proprio qui alle mie spalle che è venuto il delitto, ieri sera intorno alle 21.20 siamo in via Conte Ruggero 45 al quartiere Forcone a Vittoria. La vita di questo uomo era apparentemente serena così come lo descrivono i colleghi di lavoro ma anche i vicini di casa fino a che la madre e la sorella era speciale, unica. Era buono con tutte, con tutte, era buono, tutte, era tutta, 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 cosa pazzesca. Scusate. Non vi ha mai dato sospetti, nulla. Vittoria, questa mattina si è svegliata con la terribile notizia, invece i residenti della zona non hanno forse neanche ancora dormito. Increduli e sbigottiti si sono avvicinati all'abitazione al civico 45. Tutti conoscono la famiglia, mai nessun diverbio. Mai, mai, mai. Abbiamo avuto cose, mai. Loro erano andati a Milano ed erano tornati. Giorgio e sua moglie dovevano sposare la piglia. Io sono un ministro di culto, quindi sono venuto per consolare la famiglia, non per altro. Conosceva, perché era molto credente la famiglia, veniva spesso da lei. Sì, la famiglia, in chiesa. Sempre in chiesa e tutti insieme. La vittima lascia la moglie e tre figli, una vive a Vittoria e altre due a Milano. Il corpo di Sailan è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Ragusa per l'ispezione cadaverica. Il sostituto procuratore Monica Monego, che ieri è arrivata sul luogo del delitto verso le 22, ha già nominato il medico legale Maurizio Spagni che dovrà eseguire l'autopsia. Fin qui le testimonianze raccolte per strada nella via dove si è consumato l'omicidio. Ma siamo stati anche al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa per ricordare che collega fosse Giorgio Sailan. Giorgio Sailan, 57 anni, Vigile del Fuoco. Tutte le mattine andava a inviare dei platini a Ragusa. Questo era il suo ufficio. Una carriera fortunata, un lavoro sempre svolto con passione. Un dolore portato con dignità tra i colleghi. Questa mattina tornare al lavoro è stato diverso. Giorgio Sailan, fino alle 20.15 di ieri sera, era in questa sede e scherzava con i colleghi. Mi dicono il turno smontante con il quale chiaramente lui si è scambiato il servizio. Il turno montante è stato molto cordiale, ha salutato con delle battute molto scherzose e è andato via tranquillamente per raggiungere la sua abitazione. Il comandante dei Vigili del Fuoco, Aldo Cumella, ha in mano la scheda che riguarda la carriera di Sailan. Era il coordinatore del dispositivo di sicurezza a livello provinciale. Dal 1983 nei Vigili del Fuoco, dopo sette anni in giro per l'Italia, era tornato a Ragusa. Nel 1996 era stato promosso capo squadra ed era partito per svolgere il servizio a Pistoia. Lo sessualo era rientrato a Ragusa, dove nel 2013 aveva ricoperto il ruolo di capo reparto nel turno D. Sì, fino a ieri sera? Sicuramente in questi quattro mesi da quando mi sono insediato, ottimi rapporti. Andando indietro, parlando anche con i colleghi, perché in queste occasioni chiaramente poi si fa un pochettino, si pensa al trascorso di carriera. Non ha dato mai modo di pensare. È stata sempre una persona che ha fatto il suo servizio in maniera impeccabile. Diciamo che da punto di vista disciplinare non ha avuto mai delle situazioni da rilevanti. C'è invece un omicidio che rimane irrisolto. Il delitto di Ivano Inglese, il postino incensurato di 32 anni che fu ucciso il 20 settembre del 2012, sempre a Vittoria, dove fu trovato cadavere in una serra. Oggi non c'è nessun responsabile. Il GIP del Tribunale di Ragusa, Andrea Reale, ha archiviato, come richiesto dalla Procura, la posizione di quattro persone. Il giudice ha deciso di non procedere perché non ci sono elementi idonei a sostenere l'accusa di omicidio nei loro confronti e che altre ipotesi investigative percorse, quella passionale e l'altra legata al consumo di sostanze stupefacenti, non hanno permesso di evidenziare elementi utili ai fini delle indagini. E restiamo sempre in territorio di Vittoria, dove i carabinieri della locale compagnia hanno portato a termine un'intensa attività antidroga. Sequestrata droga dal valore di oltre 10.000 euro, arrestati due spacciatori, è segnalato un assuntore. E' questo l'esito dell'intensa attività di controllo e repressione di attività illecite, con particolare riferimento ad attività antidroga, portata a termine dai carabinieri della compagnia di Vittoria. I provvedimenti sono scattati a seguito di due distinte operazioni. L'ultima, in ordine di tempo, si è registrata nel corso della giornata di ieri, quando incontrata Roccazzo, una Citroen C2, che andava a velocità elevata, è stata fermata dai militari. Alla guida dell'autovettura c'era Michele Marinelli, 22enne di Vittoria, già noto alle forze dell'ordine. Ad incastrare il ragazzo è stato l'atteggiamento nervoso. Dopo la perquisizione personale, si è passati infatti al controllo del mezzo, dove è stata trovata, abilmente occultata, una busta termosigillata contenente 50 grammi di cocaina in pietra, quindi allo stato puro. Il ragazzo è stato ristretto presso la casa circondariale di Ragusa, su disposizione del sostituto procuratore, Monica Monego, a disposizione dell'autorità giudiziaria, davanti la quale dovrà rispondere del reato di spaccio. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Sabato sera, invece, durante dei controlli, i carabinieri hanno arrestato Gianluca Zago, 19enne pregiudicato di Vittoria, trovato in possesso di 20 grammi di hashish suddivisi in 5 dosi. Lo stupefacente è stato trovato durante una perquisizione domiciliare, durante la quale è stato trovato nella camera da letto anche materiale per il confezionamento della droga. Durante i controlli del territorio è stato segnalato alla prefettura un assuntore che aveva con sé 5 grammi di hashish. Tutto lo stupefacente è stato inviato ai laboratori dell'ASP per le analisi e continuano le indagini per capire se ci siano complici e quali siano i canali di approvvigionamento della droga. E operazione antidroga anche da parte dei carabinieri della compagnia di Modica è stato denunciato a piede libero un marocchino di 33 anni e due i giovani segnalati alla prefettura per detenzione personale. I controlli hanno riguardato Modica Bassa, dove erano stati segnalati episodi di spaccio. Sequestrati diversi grammi di cocaina e hashish, controllati due esercizi pubblici, eseguite 14 perquisizioni complessive e 26 le persone identificate. Addosso all'uomo sono stati trovati un grammo e mezzo di hashish e 400 euro in contanti nascosti in una tasca dei pantaloni dalla perquisizione domiciliare. I carabinieri hanno poi trovato due celofan con 4 grammi di hashish. Il tutto è stato sequestrato. Cambiamo argomento. Resta sotto sequestro l'impianto di comunicazione satellitare militare USA MUOS realizzato nella riserva del suggeretto di Niscemi. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'effetto della decisione della Cassazione che ha rigettato il ricorso dell'avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Difesa. Rimane vigente l'ordinanza emessa il 1 aprile del 2015 dal GIP di Caltagirone, confermata poi dal Tribunale per il riesame di Catania, su richiesta del procuratore Giuseppe Verzera, che ha bloccato la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di telecomunicazione nella base americana. La Cassazione ha anche condannato il Ministero della Difesa italiana al pagamento delle spese processuali. Ci spostiamo in territorio etneo dove arrivano buone notizie per i giovani che vogliono fare impresa. Tutto in una sintesi nel nome Vulcanic. L'opportunità che tanti imprenditori stanno aspettando arriva in Sicilia grazie a Vulcanic, il primo incubatore che nella nostra regione attiva programmi interamente rivolti a trasformare le idee in imprese sostenibili, in grado di affrontare il mercato e creare un impatto positivo sul territorio. L'idea è quella di creare un luogo dove l'innovazione sociale e le imprese tecnologiche possono effettivamente coniugarsi e immaginare progetti legati all'innovazione sociale digitale, ovvero quelle tecnologie abilitanti per le comunità, in grado di risolvere sfide dei nostri tempi. I programmi di incubazione da idee e progetto di Vulcanic sono attivati grazie al contributo di investitori sponsor e partner commerciali e mirano a selezionare e sviluppare un'idea in grado di risolvere un problema o migliorare un servizio. Stamattina durante la conferenza stampa che si è svolta proprio presso la sede di Vulcanic sono state presentate le tre call, ossia i tre ambiti in cui si può investire. Orto in hotel con la partnership e l'hotel Sheraton di Catania, Copap con la partnership di Conf Cooperative e innovazione sociale digitale. Noi abbiamo una realtà, quella regionale, che ha tante opportunità, dobbiamo abituarci a una logica progettuale che ci consenta di scrollarci un po' da quella impostazione alla quale siamo abituati, in base alla quale l'economia si fa sui bilanci pubblici. Noi sappiamo che i bilanci pubblici ormai hanno le dimensioni che hanno e quindi bisogna che i giovani imparino a fare impresa ed evidentemente ci deve essere una rete che li assista. L'idea di poter permettere al personale di cucina di accedere ad un piccolo orto nel quale trovare sempre la frutta, la verdura di stagione per poter lavorare e portarla sul piatto al cliente, per noi è sembrata un inizio per ritornare in maniera contemporanea un po' al passato. La SPM ha avuto la massima attenzione da parte di questa amministrazione, l'assessore Lorefice di Modica, che interviene a seguito dell'intervento di oggi sulla SPM da parte della CGL. Dopo averla trovata in una situazione disastrosa, si arrivate a coprire quasi per intero l'arretrato del 2013, 2014 e 2015, tant'è che su richiesta dello stesso Terranova per venire ulteriormente incontro ai dipendenti a inizio 2015. Sono state rideterminate tutte le imposte da versare da parte degli stessi che, in un solo anno, avevano percepito, oltre alle mensilità, anche gli arretrati per cui la tassazione era schizzata alle stelle, continua la nota. Non campiamo Terranova, a cosa alluda, quando dice di conoscere il motivo per cui sono stati saldati i dipendenti, potrebbe essere più chiaro. Garantiamo il massimo impegno, conclude la nota a firma dell'assessore Lorefice, perché tutti gli arretrati vengano saldati al più presto. Cambiamo argomento, torniamo in territorio etneo per parlare delle candelore di Sant'Agata. Arriva un regolamento. Fissare le regole affinché la partecipazione delle candelore alla festa di Sant'Agata si svolga nel rispetto più assoluto della legalità, nonché della tradizione della stessa festa. E questo lo scopo è il nuovo regolamento per la partecipazione delle candelore alla festa della Santa Patrona. Le candelore partecipano alla processione per l'offerta della scera del giorno 3 febbraio e precedono la processione di Sant'Agata nei giorni 4, 5 e 12 febbraio. Eccetto il cerio di Monsignor Ventimiglia, le altre candelore non partecipano ai festeggiamenti alle 17 di agosto. A tutte le associazioni che hanno l'uso alle 12 candelore viene erogata da parte del Comitato nell'ambito delle spese dei festeggiamenti una somma di denaro a titolo di contributo economico variabile in base al numero dei portatori finalizzata a consentire la partecipazione alle candelore e festeggiamenti ufficiali alla Santa Patrona. Da qui anche la necessità di un nuovo regolamento affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Il Comitato per la festa di Sant'Agata potrà proporre all'associazione anche la sottoscrizione di un non protocollo di trasparenza e legalità che verrà predisposto allo stesso comitato d'intesa con la prefettura di Catania. I cere e le candelore dovranno avere l'assicurazione, dovranno indicare preventivamente il percorso alla questura e al comune nei giorni soprattutto precedenti, i percorsi tradizionali del 3, 4 e 5 dovranno rilasciare la ricevuta per le varie donazioni e quindi chi non si attiene a queste regole ovviamente rischia di non partecipare più alla festa. C'è un lavoro comune per rendere la festa ancora più ordinata, ancora più bella. Oggi presentiamo questo regolamento e siamo certi che la festa andrà bene anche quest'anno. Ci spostiamo a Ragusa dove sabato sera c'è chi ha detto sì in piazza alle unioni civili. Sveglia Italia e questo è il claim che è arrivato da 100 piazze italiane tra cui anche quella di Ragusa che ha aderito alla mobilitazione nazionale a favore delle unioni civili. La mobilitazione è stata promossa da Arci Gay, Arci Lesbica, Gedo, Famiglia Alcobaleno e Meet in vista della discussione al Senato del DDL sulle unioni civili che verrà discusso domani. A Ragusa le associazioni si sono dati appuntamento in piazza San Giovanni. Non è più possibile, ribadiscono i presidenti di Arci Gay e a Gedo Ragusa rispettivamente Emanuele Micilotta e Anna Battaglia che in Italia non si è previsto un riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso. Un'indiscriminazione insopportabile scrivono priva di giustificazioni. Anche a Ragusa dunque si procede alla raccolta di firme per chiedere al governo di legifirare al più presto per fare in modo che non ci siano più discriminazioni e approvare la legge che riconosca la piena dignità e i pieni diritti alle persone gay, lesbiche, bisessuali e transensuali. I diritti di milioni di persone e per far approvare il decreto legge Giri No. Quindi perché la parità di diritti è una cosa che riguarda tutti, è una cosa importante anche per le persone omosessuali appunto. Stiamo facendo questa battaglia per i diritti di tutti. Adesso voliamo tra la Cina e il Pakistan attraverso le fotografie del medico Mario Benenati cardiologo di professione ma fotografo per passione. Fotografie e racconti nelle terre di mezzo, scatti che ritraggono le meraviglie dell'Asia tra la Cina e il Pakistan e quanto raccontato sabato pomeriggio a Palazzo dell'Eva Modica da Mario Benenati cardiologo di professione e fotografo per passione. Un regalo per gli appassionati delle avventure e i curiosi del mondo, scatti che immortalano quattro viaggi intriganti alla scoperta di popoli straordinari e atmosfere incantate. Altre due tappe saranno organizzate per raccontare altri paesaggi. La prossima è il 13 febbraio dove si parlerà del viaggio verso Cuba, sempre a Palazzo dell'Eva e poi il 5 marzo si esplorerà l'Europa e l'Africa con le foto che raccontano la Romania e il Marocco. Racconteremo il viaggio in Ladakh, un paese straordinario, un paese indiano, una regione indiana al confine tra la Cina e il Pakistan che presenta aspetti di straordinaria bellezza e di grande fragilità. La manifestazione è in collaborazione con l'Inner Wheel Club Ragusa Centro e con l'Uni3 ed è gestita e organizzata dal Centro Studi sulla Contea di Modica e del suo presidente, l'architetto Eugenia Calvaruso. E parleremo di fitness nella seconda parte del nostro telegiornale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale, un servizio dell'ufficio commerciale che parla del compleanno della palestra Basaki. Ieri la Basaki Fitness Club ha festeggiato il settimo compleanno della struttura sportiva di via Nino Martoglio di Ragusa. A caratterizzare l'Open Day, diversi corsi che si sono susseguiti dalle 10 alle 16 con gli insegnanti e i Kleber. Una giornata dedicata al fitness, al wellness e all'intrattenimento. E gremita la sala grande della struttura sportiva per i Basaki Sgo Talent nel quale si sono esibiti i Kleber e i istruttori nelle varie performance. Dal canto, ho fatto un pezzo di Ben Harper, Diamonds on the Inside, un pezzo famoso che mi piace molto eseguire. Al ballo, oggi è il settimo compleanno, abbiamo organizzato questa festa per tutti i clienti nostri, anche non clienti. Stiamo divertendo, è una bella festa, speriamo di condurla al massimo delle nostre... C'è tanta partecipazione anche di pubblico, iscritti e non iscritti alla Basaki. Il bello è questo, appunto, far venire gente che non è iscritta per coinvolgerla in questa grande festa. Dal cabaret... Ho raccontato una cosa che mi piaceva veramente portare ad un pubblico un po' più ampio che non fosse solamente la nostra famiglia. Un pubblico eterogeneo. Un pubblico eterogeneo sicuramente. E niente, sono i racconti della nonnina, della bisnonna che ci intratteneva a fine di ogni pasto per le sere di Natale, nelle cerimonie comunque dove eravamo tutti riuniti. Un momento esilarante che ha visto sposare la passione per lo sport, per la salute e il benessere personale, all'aggregazione sociale e all'amicizia. Questa, la vera filosofia della Basaki. Come le sembra questo momento dedicato all'intrattenimento in un contesto in cui si fa tanto sport? Bellissimo, perché è sempre un momento per ritrovarsi, per essere in compagnia degli amici. La Basaki non è solamente sport, ma anche intrattenimento. Certo, soprattutto, specialmente quando fai il compleanno Basaki. Settimo compleanno. Settimo compleanno. Ci inventiamo anche come cabarettisti. L'open day di ieri ha mostrato il meglio di un'offerta di corsi vastissima e di alto livello che si è concluso con l'emblematico taglio della torta, al quale hanno partecipato l'intero staff, i clubber e i non iscritti simpatizzanti, riuniti per festeggiare insieme i sette anni di questa solida realtà sportiva, la palestra Basaki Fitness Club Ragusa. Da noi non è solo lavoro fisico, perché uno immagina sport, devo faticare, campionate, al di là di questo c'è anche proprio lo star bene tutti insieme, conoscersi e passare una serata come questa che veramente è bellissima. Qualcosa di dolce si può anche consumare? Sempre, si può consumare sempre. Qualcosa dolce si può consumare sempre. Soprattutto oggi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento su video mediterraneo.